Arriva anche in consiglio regionale l'eco dello sciopero di quattro ore dei sindacati dei trasporti che protestano oggi contro il dimezzamento quasi delle corse di autobus, in particolare nelle aree interne dell'Aquilano previsto dal piano industriale della nuova società unica TUA. Parliamo di 106 corse quotidiane per un totale di 700.000 km. Sono le tratte che si sovrappongono a quelle dei treni che saranno potenziate garantendo i collegamenti su gomma tra paese e stazioni. Ha più volte rassicurato il sottosegretario di giunta Camillo D'Alessandro del Partito Democratico ed è l'unico modo per ottenere risparmi, far quadrare i conti e salvaguardare i livelli occupazionali. Argomenti che non convincono affatto i sindacati, però che ribattono i disagi saranno enormi perché non è detto che Trenitalia potenziera le corse dei treni e ci saranno pendolari che per arrivare a scuola o al lavoro dovranno fare anche tre trasbordi. Le opposizioni di centrodestra rincarano dunque oggi la dose a margine dei lavori di commissione ma anche nella maggioranza si apre qualche crepa proprio tra gli esponenti dell'area marsicana e dell'Abruzzo interno. Quando abbiamo denunciato che la costruzione della società unica dei trasporti era fatta frettolosamente male e che sarebbe solo servita ad avere meno corse, ad avere meno autisti e a danneggiare le aree interne paradossalmente anche i grandi centri urbani che hanno invece il trasporto urbano non è che lo dicevamo perché volevamo essere contro tutti i costi, perché avevamo letto le carte e ad oggi il piano industriale non c'è, gli accordi di secondo livello con i sindacati non ci sono non c'è una maggiore produttività, ci sono solo minori servizi che è la logica per spendere meno e quindi per andare incontro ai tagli imposti dal governo Renzi a cui questa regione non si ribella mai. Faremo l'impossibile per dare tutte le risposte adeguate ai territori che oggi sono in difficoltà. E quindi cosa significa in concreto cambiare il piano industriale la tua? Cercheremo di intervenire sul piano industriale della tua. E per fare cosa? Per far sì che i territori vengano sempre più tutelati perché credo che il servizio di trasporti sia un servizio essenziale in particolare per le aree interne.